Si restringe la maggioranza dell'amministrazione giuliese. L'assessore Federico Taralli si è dimesso per esigenze lavorative. Taralli è responsabile vendite di un'azienda tedesca e si è trovato davanti a un bivio, la politica o la professione. L'ormai ex assessore ricoprirà comunque il ruolo di coordinatore comunale dell'associazione Noi Verso con cui era stato eletto. Cosa rimane di quest'anno di assessorato? Sicuramente è un'esperienza bellissima, la prima esperienza della mia vita in ambito politico, benché fosse in un polo civico, un progetto che ho visto nascere, al quale ho creduto moltissimo e che nonostante le grandissime difficoltà dovute a quella che è l'emergenza più grande dal dopoguerra, che è quella che stiamo vivendo, del covid, ma che comunque sta portando i propri frutti in città. Il sindaco Ivan Costantini ne assumerà le deleghe al verde pubblico, agli impianti sportivi e al mercato ittico. E questo almeno fino a settembre. Il primo cittadino aveva già assunto quella all'urbanistica e si ritrova così a ricoprire un ruolo da superassessore. Adesso la questione è la possibilità di allargare la maggioranza. Nei giorni scorsi si era parlato di trattative in corso con la Lega, che attualmente è all'opposizione. E questo benché Costantini sia stato eletto a seguito di una campagna elettorale in forte contrapposizione con il Carroccio, i cui consiglieri hanno votato contro il bilancio e il piano aziendale di Giulianova Patrimonio. Il sindaco però non ha bisogno di ingressi dell'ultima ora. La maggioranza è solida, ha dichiarato, ma al contempo non esclude che l'accordo possa essere raggiunto nei mesi a venire. Questo lo vedremo solamente nel corso dei prossimi mesi. Noi, come abbiamo sempre fatto, faremo delle attente valutazioni, non ci faremo prendere dalle frenesie di allargare la maggioranza. Io ho una maggioranza solidissima, quindi comprendete bene che devo fare delle valutazioni con tutte quelle persone che si sono candidate per me e con me 12 mesi fa.